State ascoltando SPS Italian Mentre la stragrande maggioranza di utenti di WeChat vive in Cina, la app è molto diffusa all'interno della diaspora cinese. Fan Yang, che è arrivata a Melbourne dalla Cina otto anni fa, sta facendo una ricerca sugli usi di WeChat in Australia. WeChat contains payment function, chatting function, socialization function, networking function, content publication, work related organization. WeChat si è anche dimostrata molto popolare tra i politici australiani, perché molti di loro sono interessati a comunicare con i membri della comunità cinese in Australia, che conta più di un milione e duecentomila persone. Alle ultime elezioni federali i candidati hanno creato profili ufficiali, hanno fatto circolare video fatti appositamente per la app ed hanno anche partecipato a sessioni dal vivo con l'audience. Ma la disinformazione è circolata velocemente. Storie false, come quella secondo cui i laboristi avrebbero concesso la residenza permanente a tutti i rifugiati, sono state visualizzate decine di migliaia di volte. Daria Impiombato, un'analista dell'Australian Strategic Policy Institute, ha detto che come Facebook o YouTube la causa principale della disinformazione è il profitto proveniente dalle pubblicità e che è difficile identificare la portata e l'origine delle false notizie. La app di proprietà cinese è stata a lungo criticata per aver censurato i propri utenti. Mentre Tencent, la compagnia a capo di WeChat, ha confermato che il contenuto degli utenti internazionali è privato, una ricerca precedente di Citizen Lab, un'azienda canadese di analisi dei dati, ha rivelato che la sorveglianza politica delle comunicazioni include anche gli utenti che vivono al di fuori dei confini cinesi. Lo stesso primo ministro australiano aveva denunciato la censura dopo aver perso il suo profilo ufficiale lo scorso anno, profilo che è stato rinominato Australian Chinese New Life. Ma alcuni esperti pensano che questa cosa sia improbabile. WeChat è in realtà due app in un sistema, Weijin per gli utenti in Cina e WeChat per tutti gli altri. Scott Morrison si era procurato un profilo ufficiale, disponibile solamente sulla versione Weixin, che gli ha dato dei vantaggi come quello di permettergli di mandare avvisi illimitati ai suoi followers. Ancora d'aria impiombato. Tencent ha detto in un comunicato ad SBS News che che proibisce la presenza sulla piattaforma di contenuti di promozione politica, incluse pubblicità elettorali a pagamento, e che il loro obiettivo è quello di minimizzare la disseminazione di notizie false e di disinformazione. Nonostante questo, una rapida occhiata della app mostra che i contenuti elettorali sono presenti. Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.